Veglia di preghiera 9-3-2022 Forza verso la luce dove Dio vi conduce Non potete essere felici se non ritorna la sua vera felicità. La pace vera solo Lui la dà. E' l'unica verità. Tutte le parole che ha detto Gesù sono tutti arrivati con i nuovi e veri apostolati. I veri adoratori del Padre mio adoreranno il Padre in spirito, luce e verità. Non dimenticate il Vangelo, vero, vivo e operativo. E' tutto in arrivo. Amen, Alleluia. Dio vi benedica tutti. Amen, Alleluia. Pregate e non dubitate, ma solo amate, amate. E solo da Dio sarete confortati. Amen, Alleluia.